L'ex sindaco Cristina Galimberti torna in campo. La sua lista insieme per Buguggiate è pronta a raccogliere la sfida di giugno con un simbolo che prelude alle tappe della campagna, contrada per contrada. Questa veste nuova del simbolo che voi vedete è quella che ricorda il paglio dei rioni, quindi i colori delle quattro contrade che insieme, unite nella territorialità e per un unico fine, si muovevano in sinergia coordinandosi. Quello che noi vogliamo fare è proprio lavorare per il paese sempre in stretto dialogo e comunicazione con le persone, per questo forte legame che abbiamo con il territorio.